scusate allora c'è uno che incontra un suo amico per strada a me piace perchè è molto, come dire, teatrale allora incontra questo suo amico per strada e gli dice mi è possibile che 47 anni ha mai stacco una donna e lecca lecca ha un problema ca 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 ha un problema ca 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 camattà e allora si dice ci penso io ti noleggio una professionista a camera del belgo non c'è nessun problema dopo una settimana si incontrano e oggi questo qua dice come andai la costa donna? mmmm sa mmmm sa azzavis che lavora di azzonlicca azzonlicca azz e faccio tutto un lavoro di 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 e allora ti che hai fatto? hai ho messo lì un che hai fatto? hai ho messo lì un 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 uo lì un caffè da il mi chiede con la stagion compagna